Questo è un evento che è stato fortemente voluto dal nostro governatore Vincenzo Spada e si è deciso di farlo a Palermo proprio nel Tempio della Cultura Palermitana che è il Teatro Massimo perché molte delle nostre storie partono dal Teatro Massimo e soprattutto perché proprio perché è il Tempio della Cultura e se noi guardiamo l'ingresso del Teatro Massimo c'è una scritta molto bella che dice l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita vano è delle scene il diletto ove non miri a prepararla a venire e questo un po' coincide col programma dei Lions, il nostro motto è We Serve cioè noi pensiamo che la cultura debba essere un trampolino di lancio per l'azione per cambiare la società in meglio, per servire le fasce più debili di chi ha bisogno e chi ha bisogno di fare sentire la sua voce e appunto questa iniziativa che è un evento culturale eccezionale dove ci saranno delle musiche del meglio della lirica in questo momento disponibile è anche finalizzata a uno slogan, una grossa sfida che noi Lions stiamo facendo che è quella che noi abbiamo chiamato One Shot One Life cioè una campagna per vaccinare quanto più possibile bambini per il morbillo anche nei paesi del terzo mondo perché non tutti lo sanno ma di morbillo si muore ci sono delle conseguenze e a volte costa poco, meno di un euro potere vaccinare dei bambini per il morbillo questa è una cosa che noi sentiamo di fare e quindi abbiamo voluto con questo richiamo mediatico in questa cornice culturale bellissima a Palermo lanciare appunto pubblicizzare le iniziative dei Lions che come detto sono presenti in tutto il mondo e si adoperano proprio per migliorare noi siamo un'associazione che è impegnata nel sociale proprio nel servizio però abbiamo bisogno di fare conoscere, pubblicizzare le nostre iniziative già un'iniziativa simile per il centenario è stata fatta a Catania al Teatro Massimo di Catania adesso la faremo a Palermo a conclusione del centenario e sicuramente sarà un straordinario successo